Parti con noi! Gli autoservizi Maiellaro sono da generazioni leader sul territorio nazionale nel campo noleggio autobus Gran Turismo. Le nostre parole d'ordine sono puntualità, professionalità, comfort. Il nostro parco macchine, affidabile di recente costruzione, dispone di autobus 54 posti, 80 posti e minibus 9 posti. L'optimum della nostra offerta è il nuovissimo Mercedes Setra S328 di 78 posti, superaccessoriato, con anche piano cottura e forno a microonde. L'azienda dispone di personale qualificato esperto in itinerari nazionali ed esteri per l'effettuazione di qualsiasi servizio turistico. Escursioni e transfert, pellegrinaggi, congressi, gite scolastiche di istruzione. Contattateci al numero 080 427 457 4 o inviateci una e-mail maiellarobus.libero.it E buon viaggio!